La Puglia è un po' arrabbiata perché si è perso molto tempo. Noi avevamo interventi programmati e localizzati nel 2008. D'altro canto siamo soddisfatti perché la battaglia delle regioni per recuperare almeno 200 dei 550 milioni previsti dal piano Prodi è stata vinta. E' il commento agrodolce dell'assessora all'edilizia della regione Puglia, Angela Barbanente, al piano casa da 100.000 alloggi in 5 anni, varato dal governo. Sono previsti interventi diversificati a seconda delle categorie interessate, finanziamenti pubblici e privati, incentivi e agevolazioni fiscali. Gli alloggi saranno destinati sia in proprietà come prima casa, sia in locazione a canone sostenibile e a canone sociale. A beneficiarne saranno famiglie a basso reddito, giovani coppie, anziani in condizioni sociali svantaggiate, studenti fuorisede, sfrattati, immigrati regolari a basso reddito, residenti da almeno 10 anni in Italia o da 5 nella stessa regione. L'intervento iniziale previsto ammonta a 200 milioni di euro, che saliranno a 550 con prossimi stanziamenti. Per valutare il piano casa, varato dal governo, Legambiente ha elaborato una sorta di pagella che valuta il rispetto degli standard di efficienza energetica, l'uso di fonti rinnovabili, i permessi per gli interventi di allargamento, innalzamento e superfetazione di volumi, la possibilità di allargamenti in aree delicate o protette, le demolizioni e le nuove cubature eventualmente consentite. Solo tre i promossi, tra cui spicca la Regione Puglia, per aver consentito l'ampliamento non oltre il 20% della volumetria esistente per gli edifici residenziali, mono e bifamiliari, e la demolizione e ricostruzione con premio di cubatura entro il limite del 35%. Anche il governatore della Basilicata, Vito De Filippo, pur riconoscendo al governo i meriti del varo di un piano casa che aiuta le fasce più deboli della popolazione, gli rimprovera uno scarso coinvolgimento degli enti locali e l'insufficienza dei fondi stanziati. Il piano varato dalla Giunta Lucana consente di ampliare fino al 20% la volumetria degli edifici residenziali mono e bifamiliari e di demolire e ricostruire con aumento della superficie complessiva fino al 40%. Positivi invece i commenti del Ministro per gli Affari Regionali, Raffaele Fitto, che sottolinea il lavoro proficuo svolto dal governo con le regioni e le autonomie locali e del segretario generale della UIL, Luigi Angeletti, soprattutto perché il piano rimetterà in moto il settore edilizio.